Un terribile schianto ha scosso all'alba di oggi il raccordo autostradale Chieti-Pescara, dove in un drammatico incidente stradale hanno perso la vita due 47 anni che erano a bordo di una lancia libera, di una Suzuki. E' accaduto tutto poco prima delle 5, quando era ancora buio. Per cause che solo l'inchiesta potrà stabilire, una delle due vetture sarebbe infatti entrata contro mano sull'asse attrezzato dallo svincolo di Dragonara nel comune di San Giovanni Teatino, andando a schiantarsi contro l'altra vettura sulla corsia di sorpasso. Il terribile impatto non ha lasciato scampo ai due conducenti, che sono praticamente deceduti sul colpo. Le vittime sono Moreno D'Amico di Pianella e Roberto Gagliardone di Alanno. Sull'incidente è stata aperta un'inchiesta da parte della procura di Chieti. Il titolare del fascicolo è il pubblico ministero Stefano Falasca. Gran lavoro per diverse ore per tutta la mattina di vigili del fuoco e polizia stradale per la pulizia della carreggiata e la regolazione del traffico, che a causa del tratto chiuso ha subito notevoli rallentamenti.